Finalmente riapre il casale 10 anni della città dell'utopia, venerdì 28 e domenica 30 giugno 2013, dalle ore 16 e 30, festa popolare, ridi in teatrale, dibattito, make, abbericene, caccia al tesoro, enrique de underground, musica, mostre fotografiche, ciclo resistenza, venerdì 28 e domenica 30, giugno! Alla città dell'utopia, via Valeriano 3F, a zona San Paolo, www.lacittadelutopia.it